Io le ho ufficializzate con questa mozione, quindi chiedo al Sottosegretario un'attenta lettura e un parere favorevole. Grazie. Grazie a lei. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo al Sottosegretario Antonello Giacomelli se intende replicare o se si riserva di farlo successivamente. Bene. E quindi il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno rega la discussione delle mozioni Vezzali ed altri, numero 1557, Rostellato ed altri, numero 1834, Giancarlo Giordano ed altri, 1835, Gagnarli ed altri, 1836 e Binetti ed altri, 1837, concernenti iniziative per la promozione dell'educazione alimentare nelle scuole. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario. Avverto che in dato odierno è stata presentata la mozione Malpezzi ed altri, 1839, che, vertendo su materia analoga a quella trattata dall'emozione dell'ordine del giorno, verrà svolta congiuntamente relativo testo e in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È scritto a parlare l'onorevole Franco Bordo, che illustrerà anche la mozione 1835, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. La FAO stima che, a livello mondiale, la quantità di cibo che finisce tra i rifiuti ammonti a 1.300.000 tonnellate e che 925 milioni di persone nel mondo sono a rischio di denutrizione. Nell'Unione Europea, oltre 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto da soli e povertà, mentre 18 milioni di persone dipendono dagli aiuti alimentari. Nel nostro Paese ogni famiglia butta fra i 200 grammi e i 2 kg di alimenti ogni settimana e ogni anno lo spreco domestico costa agli italiani quasi 9 miliardi di euro. È indispensabile, fin dai primi anni di scuola, promuovere dei modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, sensibilizzando i ragazzi alla necessità etica, prima ancora che economica. Di una lotta allo spreco alimentare, laddove gli squilibri relativi al diritto all'accesso al cibo sono ormai sempre più inaccettabili, sia a livello nazionale che planetario. Sotto questo aspetto, quindi, la scuola può e deve avere un ruolo importantissimo per contribuire alla formazione di consumatori consapevoli. Consapevoli dello stretto legame tra qualità del cibo, un'alimentazione sana e la propria salute, nonché quanto le scelte alimentare siano strettamente connesse alla tutela dell'ambiente e del territorio. Consapevoli che scegliere prodotti locali, privilegiando la filiera corta, riduce i costi di trasporto e quindi le emissioni di CO2 e sostiene l'economia locale. Così come scegliere produzioni biologiche, significa optare per prodotti più sani con evidenti benefici ambientali, connessi, tra l'altro, al mancato utilizzo di prodotti chimici in agricoltura. E' peraltro evidente che tutto ciò debba essere coerente e quindi accompagnato con politiche nazionali e comunitarie volte incentivare l'alimentazione di qualità ed avviare efficaci iniziative normative per contrastare lo spreco alimentare. Dalle vendite con ribasso del cibo promosso prossimo a scadenza, alla donazione dei prodotti venduti, all'introduzione di criteri premianti degli appalti pubblici, nei servizi di ristorazione collettiva per chi distribuisce gratuitamente le eccedenze. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza segnala, tra l'altro, la diffusione di due fattori di rischio molto significativi per la salute dei minori, l'obesità e il sovrappeso. Detti fattori di rischio risultano strettamente correlati al concetto di povertà come assenza o carenza di opportunità. E ciò comporta, tra l'altro, che il divario sociale si traduca in un divario di salute che, nonostante i progressi della medicina e i livelli di offerta sanitaria nel nostro Paese, non risulta ancora colmato. Quindi, tende ad affermarsi, particolarmente nelle regioni del sud del nostro Paese, un modello nutrizionale sempre più simile a quello esistente nei Paesi del sud del mondo, in cui si abbandona la tradizione alimentare nazionale a favore di un consumo eccessivo del cosiddetto junk food, il cibo ipercalorico a scarso valore nutrizionale che però vanta un costo basso. Per cui oggi è assolutamente indispensabile prestare maggiore attenzione ai crescenti disturbi del comportamento alimentare. Spesso i primi sintomi di questi disturbi insorgono proprio in età evolutiva. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento del tasso di incidenza e contemporaneamente un abbassamento dell'età di insorgenza di questi fenomeni. Il fatto che questi disturbi non riguardino più solo gli adolescenti, ma che si stiano diffondendo anche in età pre-adolescenziale, rende fondamentale il ruolo che può essere svolto dalle scuole. Una corretta educazione alimentare attraverso un'appropriata conoscenza dei principi alimentari e la promozione di un sano rapporto con il cibo aiuterebbe i ragazzi a sviluppare consapevolezza critica verso i messaggi mediatici sbagliati che associano bellezza e magrezza e li accompagnerebbe verso un equilibrato sviluppo e benessere psicofisico. Sotto questo aspetto, progetti nelle scuole, iniziative e campagne di sensibilizzazione dovrebbero servire a prevenire anche queste patologie, sempre più diffuse ma spesso taciute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente emanato le linee guida sull'assunzione dello zucchero presente negli alimenti. Le raccomandazioni di tale istituzione prevedono la limitazione dell'assunzione di zuccheri semplici come quelli tipici delle merendine al 10% del fabbisogno calorico giornaliero, con l'esortazione a ridurre ulteriormente questa soglia a meno del 5%, con particolare attenzione ai più giovani. A parere del nostro Ministero della Salute, le linee guida appaiono eccessivamente restrittive. E a quanto risulta, e ci risulta, l'unico Paese UE dall'Unione Europea a essersi dichiarato in disaccordo con dette e raccomandazioni, risulta l'Italia. È una presa di posizione che, francamente, facciamo fatica non solo a condividere, ma semplicemente a capire. Un'ulteriore criticità, emersa nel corso dell'indagine conoscitiva sulla priorità e il disagio minorile sopra citata, ha riguardato le messe scolastiche, che spesso risultano scarsamente accessibili ai minori che vivono in nuclei familiari con difficoltà economiche. Sotto questo aspetto è stata sottolineata l'opportunità di offrire un servizio gratuito alle famiglie e ai bambini in condizioni di povertà certificata. Chiaramente, questo tema si inserisce nella complessa questione delle risorse destinate alla scuola. Con questa mozione e con queste promesse, Sinistra Ecologia e Libertà propone principalmente di impegnare il Governo a introdurre fin dalla scuola dell'obbligo programmi di studio e campagne informative di educazione alimentare e gestione ecosostenibile delle risorse naturali, attraverso un approccio multidisciplinare delle diverse telematiche relative al cibo, in quanto strettamente connesse ad ambiti quali lo spreco alimentare, la salute, l'agronomia, il benessere animale, l'ambiente e la biodiversità, l'economia, nonché sull'educazione al cibo di qualità e una produzione alimentare ecosostenibile. A prevedere l'avvio di progetti e campagne di sensibilizzazione nelle scuole sui disturbi del comportamento alimentare che troppo spesso insorgono proprio nell'età evolutiva, per favorire un'appropriata conoscenza dei principi alimentari e la promozione di un sano rapporto con il cibo. A incentivare, per quanto di competenza, la diffusione di orti didattici fin dalle scuole di infanzia statali e paritarie degli enti locali. Quali strumenti educativi con cui i bambini possono imparare la cultura di ortaggi e frutti, piantare i semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante, imparando ad osservare la natura, i suoi ritmi, il ciclo delle stagioni e raccogliere e consumarne i prodotti. Adottare opportune iniziative normative, in accordo con gli enti territoriali, volte a privilegiare l'utilizzo dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e degli alimenti a filiera corta. A predisporre più efficaci iniziative normative per la lotta alla deprivazione alimentare, per contrastare lo spreco alimentare, favorendone il recupero e prevedendo adeguati strumenti normativi, volti ad incentivare la donazione dei prodotti alimentari invenduti e la vendita con ribasso del cibo prossimo a scadenza. In ultimo, a recepire le raccomandazioni contenute nelle linee guida emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla riduzione dello zucchero presente negli alimenti, con particolare riferimento ai bambini consumatori. Grazie, Presidente. Grazie a lei. È scritta a parlare l'Onorevole Busto, che illustrerà anche la sua mozione 1.836, di cui è confirmatario. Prego. Esatto, sono confirmatario. Allora, questa mozione si accoda allo sforzo che, appunto, si porta avanti in quest'Aula nel promuovere un'alimentazione, un'educazione alimentare consona. Abbiamo una situazione strana, ormai si sta diffondendo sul pianeta Terra, il fatto che si abbandonano sempre di più i stili di vita e regimi alimentari basati su consumi locali, su consumi di alimenti non trasformati, su consumi di alimenti sani e ci si sposta sempre di più verso alimenti insalubri, ricchi di zuccheri, ricchi di grassi saturi, ricchi di alimenti di origine animale che è la stessa transizione che abbiamo fatto noi in Italia dagli anni Sessanta ad oggi. Se guardiamo, mi voglio concentrare su, diciamo, uno dei punti, un punto che è presente solo nella nostra mozione che è quello che...